Benvenuti a questa serata del lupo e il contadino, siamo qui in onda in diretta dalla libreria La Quercia dell'Elfo Grazie Stefania che ci ospiti questa sera Siamo in una situazione un po' diversa dal solito, c'è anche il pubblico Tony quando c'è il pubblico si emoziona, l'hai notato? Davvero? Infatti mi sono girato da questa parte Sì, tu ti puoi mettere anche di spalle se vuoi Grazie di essere venuti, sta nevicando fuori ma con le slitte È una serata da lupi Per introdurre la puntata di stasera raccontiamo che è successo mentre stavamo venendo qui Perché noi di solito capiamo come va la puntata dal tragitto da casa alla macchina per venire qua Andavamo a prendere la macchina di Tony Avevamo il mixer, i microfoni Io avevo la maschera del lupo sotto il braccio Ci ferma una ragazza per strada, era buio, eravamo incappucciati con la maschera del lupo appunto sotto il braccio Ci chiede un'indicazione, non vedendolo il lupo Dopodiché mentre noi stavamo indicando la fermata dell'autobus che ci chiedeva nota il lupo Rimane per dieci secondi in silenzio facendo delle smorfie Ecco, secondo me questo potrebbe essere un bellissimo riassunto della puntata di stasera Infatti stasera siamo con Andrea Contri E parliamo di comunicazione intuitiva con gli animali Ciao Andrea Ciao, buonasera a tutti Andrea Andrea l'abbiamo intervistato già un po' l'anno scorso se non sbaglio Direi due anni fa Due anni fa? Due anni fa eravamo con Igor Sibaldi E in una puntata con Igor c'era anche Andrea Allora Andrea, ricapitoliamo un attimo la tua storia Tu quando hai scoperto di poter parlare con gli animali? Allora, all'inizio è avvenuto un po' per caso Ma in realtà non esiste il caso Diciamo che è avvenuto tutto Avendo, diciamo, la follia di seguire un segnale che mi è arrivato Io all'epoca ero in Inghilterra Stavo facendo una tesi di laurea Quando sul suggerimento del mio coinquilino che mi ha detto Ma se ti piace tanto l'Africa perché non ci vai? In quel momento mi è arrivata in testa l'immagine di un leone bianco Tra l'altro adesso è anche uscito il film sui leoni bianchi E io ho detto Vado in Africa ma voglio andare a conoscere questo leone Che mi è arrivato in testa Stavo guardando un documentario ma non sui leoni bianchi Qui sono in internet e ho ricercato leoni bianchi Per tre giorni Finché non ho trovato il sito Del progetto che si occupa di reintrodurre in natura i leoni bianchi E ho deciso di andare in Africa Semplicemente a fare il volontario Perché quel leone mi aveva chiamato E quindi andando giù in Africa Ho passato quattro settimane da volontario Con esperienza anche un pochino forte all'inizio Perché ho avuto il benvenuto dall'Africa E quindi dai serpenti in camera E i leoni che hanno giocato con la Jeep Come sapete il gattino che gioca con la bacchetta Io avevo due leoni maschi adulti Quindi i primi tre giorni io mi ricordo che ho chiamato a casa E ho paura di morire E mia mamma ha detto torna a casa Ma anche quello è stato un grande insegnamento Perché quando ci sono dei passaggi evolutivi Nelle vite poi di tutti noi Ci sono sempre delle prove Quando stai per affrontare un nuovo passaggio Le nostre guide ti mettono nelle condizioni di dire Sei davvero pronto? Lo vuoi fare davvero? E quasi spesso Quasi sempre scusate Quando succedono questi passaggi Non sono mai in discesa Ma sono sempre in salita Fate un po' caso anche delle vostre vite Quando successe degli eventi anche importanti Che vi hanno dato un qualcosa in più O semplicemente vi siete risvegliati sotto certi aspetti E succedono sempre queste prove E quindi lì sono state prove abbastanza forti Che io il serpente ho un terrore proprio Vederselo in camera E tutto poi è iniziato il giorno prima di tornare in Italia Perché la fondatrice che tra l'altro ha scritto anche la prefazione Si chiama Linda Tucker Mi ha ringraziato del periodo di volontariato E mi ha fatto la classica domanda E mi ha detto Ma lo sai che si può parlare con gli animali? Io mi ricordo che ho iniziato a ridere E ho detto Sì, da piccolo mi piaceva volare Le aquile E gli animali mi sono sempre piaciuti Lei però si è fatta a serie Che ha capito Insomma ha detto No Andrea Se tu trasmetti amore incondizionato agli animali E gli parli col cuore Loro ti possono capire Prova a farlo domani con i leoni Prova a chiamare i leoni Trasmettendogli amore Sta di fatto che io il giorno dopo Lei aveva organizzato tutto Quindi siamo andati in jeep con una volontaria A distanza di una trentina di metri Da due leoni adulti L'etaba e Regius E niente Io ho detto Ho bisogno di un po' di tempo Ma non sapevo come fare Come funzionasse il tutto Quindi mi ricordo che era piena estate Febbraio Mano fuori dal finestrino Perché ovviamente le stagioni sono invertite Chiudo gli occhi per concentrarmi Trasmetto amore ai leoni E gli chiedo di venire Immagina cosa è successo Quando ho aperto gli occhi I leoni Le ho un braccio No I leoni stavano dormendo Esattamente nel punto Dove erano Noi sono spostati di un millimetro Cioè non ti ha cagato nessuno 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 Proprio Quello però È stato un altro importante insegnamento Perché lì è venuto qualcosa dentro di me E io ho detto Abbandono ogni aspettativa Quindi che vengono o non vengono Non mi interessa più E rifaccio lo stesso esercizio Concentrandomi su uno di loro Che era Regius Che era quello dominante Che aveva la criniera più folta In modo inconsapevole Abbandonando l'aspettativa Io non sono più andato A livello del cervello Della mente Ma a livello del cuore Cioè io gli dicevo Ti amo Non perché dovesse venire Ma semplicemente perché Sei un animale stupendo Facendo così Aprendo gli occhi Il Regius Era a due metri da me E quella è stata La prima esperienza In cui Non ho ricevuto Messaggi O informazioni Ho solamente riscontrato Che chiamandolo Con quel tipo di approccio Quindi sulla frequenza L'amore Quell'leone lì Era di fianco a me E lì ti viene un po' Il classico dubbio Cos'è successo qui E la curiosità Poi mi ha fatto andare avanti Ad approfondire il tema Hai già dato qualche elemento Rispetto alla tecnica Di comunicazione La domanda che ti vorrei fare A proposito è Questa comunicazione Che tu hai con gli animali Secondo te È un dono È un talento Oppure è proprio Una tecnica Pura e basta Che si può insegnare Imparare Nessuna delle due Per me È un'abilità È un'abilità Che abbiamo Tutti noi Fa parte Del nostro Set di abilità Nascoste Sottili Che vanno Risvegliate Perché se andiamo Indietro nel tempo Prima dell'utilizzo Della parola L'uomo non comunicava Utilizzando l'italiano Il francese Eravamo anche noi Parte del regno animale Del tutto E quindi comunicavamo Anche noi Con Telepatia Telepatia Come le scimmie Ad esempio Quindi con dei versi Però Se andiamo indietro Nelle culture sciamaniche Proprio si parla Di questa comunicazione Quando La moglie Voleva chiamare il marito Lo pensava Pensava al suo odore E il marito Tornava a casa La stessa cosa Lo fanno Oggigiorno I cacciatori Che vanno Che sono ancora A contatto con natura Entrano nel corpo D'animale E chiedono Permesso all'animale Di cacciare Queste sono cose Molto comuni E quindi È un'abilità Che abbiamo tutti noi Va solo Riscoperta Quando mi fanno Questa domanda Il paragone Che faccio È con Bolt Nei 100 metri E mia nonna Quindi se io Vado da mia nonna E dico Nonna Puoi correre 100 metri Lei mi dice Sì magari In 10 minuti Io ti faccio 100 metri Quindi è un'abilità Che noi abbiamo Puoi arrivare A fare il record mondiale Quello Magari neanch'io Ci arrivo Però Non dobbiamo Toglierci questa possibilità È tutto Sta nel credere Nel nostro potenziale E questa è una Possibilità Che noi abbiamo Io ho avuto esperienze Paravamo prima Ad esempio In carcere Con i detenuti Lì erano Tutti Uomini Sex offender Quindi con un passato Molto importante Che si sono aperti Alla comunicazione Forse non capendo Veramente cos'era Però sono venuti Hanno fatto meditazione E hanno dato Risposte talmente precise Sul mio cane Che era a Modena Sulle storie Di alcuni cavalli Di cui non sapevano Assolutamente nulla E lì ti fa vedere Come in realtà È qualcosa di veramente Accessibile Dobbiamo avere Darci questa possibilità A mio avviso Gli animali Quindi non parlano Cioè in italiano In francese Usbeco O dialetto Modenese No È una lingua Più Sottile Più Ancestrale Antica Cioè i messaggi In che lingue Ti arrivano Ah in diverse lingue In diverse lingue Però non dipende Dagli animali Questo dipende Da noi Vi spiego un attimo Come avviene Faccio una premessa Io parlo sempre D'esperienze Di miei personali Poi magari qualcuno Vuole altre esperienze Io parlo Da quello Che ho vissuto E Gli animali Non hanno la parola Tutto si basa Sulla frequenza Dell'amore E questo è l'unico modo In cui noi possiamo Entrare in comunicazione Con gli animali Così come con le piante Così come tra di noi Tra le persone Perché quando voi amate Veramente una persona Che può essere Anche un amico Magari un amico Di scuola L'ho pensato intensamente E passo un giorno E vi chiamo Lo incontrate Proprio Ci sono queste sincronicità Che abbiamo Nella nostra vita Gli animali Quindi si basano Su questo tipo Di frequenza E come avviene La comunicazione Il messaggio Una volta che noi Chiediamo un'informazione Facciamo una domanda Il messaggio Ci viene mandato In diverse In una forma Che è quella Che vi dicevo prima Dell'amore Ma come arriva Nella nostra mente Può arrivare In diverse forme Se parliamo Nella forma del linguaggio Se prendiamo ad esempio Un italiano In giapponese E chiediamo al cane Qual è il tuo cibo preferito Ad esempio A me può arrivare La crocchetta E la parola crocchetta Ad esempio Crocchetta al salmone E al giapponese Arriva crocchetta Al salmone In giapponese Ma questo non è Non deriva dal fatto Che l'animale Sa parlare L'italiano e giapponese Ma è la nostra mente Che una volta Che arriva L'informazione Pensate a livello energetico La traduce La traduce Anche io Mi sono domandato Queste domande E all'inizio In Italia Comunicavo in italiano In Inghilterra Comunicavo in inglese Quindi era sempre inglese Poi mi sono trovato A comunicare Con ad esempio Un cane Che ne parla anche nel libro Che vive in Messico Allora lì come parli In messicano Alla fine ho capito No Il linguaggio è unico Parli in italiano E ricevi in italiano Ma tutto dipende Da come opera Nostra mente Se io sono in Inghilterra E parlo sempre inglese E parlo col mio cane Probabilmente mi arrivano I messaggi in inglese Ma non è Che il mio cane Sta facendo lo switch Italiano-inglese Perché sa che sono là È la mia mente Che in quel momento Lavora in inglese Quindi il messaggio è uno Questo lo dici tu Magari il tuo cane Sa l'inglese È molto talentuosa Quindi potrebbe anche essere Ma quindi Questa comunicazione È una comunicazione a distanza Tu non ti metti davanti al cane Lo guardi E trasmetti E ricevi E avviene tutto a distanza No Può avvenire anche in presenza Questo è un concetto molto bello Perché dobbiamo Semplicemente Pensare a qual è l'unità di misura Nel senso che la comunicazione La distanza Noi misuriamo in In chilometri No? Metri L'unità di misura internazionale È il metro No? Quindi C'è uno spazio Tra me E te O tra di noi C'è uno spazio Che ci divide Che poi adesso sappiamo Che non è uno spazio vuoto Se torniamo però A quello che vi ho detto prima Il linguaggio Universale È il linguaggio dell'amore Allora con la stessa domanda Vi dico Ma se voi Amate vostro marito Qui a Noi siamo a Vignola adesso E vostro marito Adesso va A Francoforte Vosso marito Continua ad amarvi o no? Speriamo di sì Dipende cosa va a fare Francoforte Anche Comunque Si spera Però Il sentimento dell'amore Uno lo prova Anche se è dall'altra parte del mondo Ed è istantaneo Basta Pensare Alla propria moglie Alla propria marito E quel sentimento Lì lo provate Non c'è necessità Di andare in Italia A rivedere quella persona A tornare lì Quindi l'amore è istantaneo Ed è per quello Che avere un animale Davanti a un metro O averlo a Cinquemila chilometri Assolutamente Non cambia nulla Perché La trasmissione Dell'informazione Arriva su quella frequenza Sull'amore Quindi Per rispondere A un'altra domanda Che potrebbe arrivare La comunicazione Non si basa Sul guardare L'animale E interpretare Il suo movimento Il suo stato fisico Se si sta leccando Quindi segnali Magari calmanti Di un cane O di un gatto No Si tratta proprio Di chiedere direttamente All'animale Perché fai questa cosa Come stai fisicamente E ricevere l'informazione Si va a un livello Più sottile Perché Può capitare Che l'animale Tu lo vedi Che è Apparentemente Non so È sofferente Perché Adesso parlo Del galletto Quindi Se c'è tempo Vi parlerò Di questo galletto Che è una storia bellissima Lui Era Non riusciva a camminare Così Voglio anche Si doveva operare Però in realtà Quindi c'era Se tu lo vedevi Era questo galletto Con la zampina Girata al contrario Che faccia anche un po' pena No Invece È un personaggio Incredibile Questo galletto Si chiama Musico Allora Parlacene Vuoi sapere La storia Che questa qui è O mettiamo un brano Prima Allora Mettiamo un brano E poi vi parlo Del galletto Musico Il brano È obbligato Questo brano Mentre Stava andando Il pezzo di Mina Andrea Ci ha fatto vedere Una foto Con un lupo Eh Ci racconti un po' Con un lupo E lui stesso Ma è stato Si può? No Si può Anche Beh Quello che vuoi Siamo fra noi Dai Siamo fra noi No Beh Era stato un incontro Che ho avuto Qui in Europa Con Con questi lupi Americani Quindi erano Giovani 60 kg Però insomma L'impatto è stato Bello forte E E niente Quindi lì abbiamo avuto Insomma anche lì Una comunicazione Che adesso In questo momento Non lo ricordo Perché era per la famiglia Però molto specifica Su dei problemi Dinamiche familiari E lì A proposito di linguaggio Questo è un aneddoto Un po' Particolare Che magari è un consiglio Che potete Anche per i cani Io avevo Questi lupi Davanti a me E praticamente Continuavo a saltarmi Adosso Con Col muso Proprio sul Sul mio volto No Immaginatevi la testa Così Un po' di timore Venenziale C'era E tutte queste persone Che sono addentro Ai lupi Poi hanno detto Andrea Ti vuole conoscere Perché natura Come avete avuto Esperienza con i cani Annusano O i genitali O dietro Nell'anno Ovviamente io non potevo farlo Perché sono vestito Ha detto L'altro modo per conoscere È la saliva Quindi hanno detto Andrea Apri la bocca Io avevo questo lupo Con questi canini Di 4 cm Maschio Ho detto Ma cosa state dicendo Ho detto Andrea Apri la bocca È stato questo bacio Infinito in questo lupo Che mi ha permesso Anche di conoscere Anche le loro abitudini Quindi quando voi Incontrate per strada Anche un cane Ovviamente non vi dico Di limonare Con questi cani Però se semplicemente Anche vi leccate Le dita I polpastrelli Avvicinate la mano Con la vostra saliva E lui può annusare O leccare La vostra saliva È un modo per Conoscersi intimamente Mi è capitato Conoscendo questo Questo aspetto Di andare d'allenamento E c'è Il chiosco Degli anziani Di fianco Al campo Chi ha questo cane Si chiama Pippo Allora io vado sempre A salutare Pippo Allora ho detto Beh adesso Facciamo amicizie Mi sono leccato le dita Gliel'ho messo in bocca Leccato E Pippo mi ha detto Sei stanco E gli ho detto Ma da cosa lo capisci Questa è la comunicazione E lui mi ha risposto I tuoi aminoacidi Azz Sono andato a casa Ho chiamato Dei amici Dottori E chiedendo Se dagli aminoacidi Uno può capire E è venuto fuori Di sì E quindi Perché proprio lì La risposta È detto Ma cosa stai dicendo Da cosa lo capisci E lì mi ha dato Questa risposta Quindi alla fine Veramente c'è Dobbiamo riscoprire Tante di quelle cose Ed è un po' Il bello Anche Della vita Ci stai E anche del libro Che hai scritto Che è uscito Per le edizioni macro Faccio un po' Perché se no Qua si cazzeggia Poi ci sono delle domande Anche per voi Se volete Dopo potete chiedere Quasi tutto No tutto Tutto Potete chiedere tutto La comunicazione intuitiva Con gli animali Edizioni macro Uscito poco fa Il 6 novembre 6 novembre Parlaci anche un po' Del percorso Cosa hai inserito Nel libro Cosa non hai inserito Sì nel libro Ho visto delle pagine bianche Fai la sigla Dello spot Dell'Indelon La sigla più breve Del mondo No è uscito Il 6 novembre Il libro Nel libro Ho raccontato È diviso in due parti Sono due libri in uno Praticamente La prima parte È la mia storia Il mio percorso Quindi Passo a passo Dall'inizio Dalla prima Esperienza con leoni bianchi Fino ad arrivare A aver conosciuto Uno sciamano Che mi ha rappresentato Un baobab Infatti il capitolo Si chiama Un saggio baobab E la seconda parte Del libro Invece sono dei casi studio Quindi su Dinamiche Che possiamo riscontrare Anche nelle nostre Relazioni con gli animali La cosa che ho voluto fare Era non fare un manuale Perché Quando uno Da una tecnica Espone un percorso Personale In realtà La tecnica migliore È quella che voi Scoprite Che è la vostra tecnica Non deve essere La mia tecnica Quindi semplicemente Tutto il percorso Spiega esattamente Come Ci c'è anche un capitolo Perché poi me l'hanno chiesto Qui c'è un capitolo Dove è uno Due Tre Quattro Fino a nove Spiega tutto Però ho spiegato I segreti Diciamo Principali Sono dentro La storia Perché proprio Nel successo Gli apparenti fallimenti I dubbi Che avevo Gli ho tutti riportati Mettendomi A nudo Ecco Nel libro Dando la possibilità Poi la gente Anche di entrare Dentro Dentro al libro Perché ci sono Una serie di Capitoli Che hanno anche Dei video Quindi uno con le QR code Andando su youtube Può entrare nella storia Quindi Vedere il progetto Che ho visitato In Amazzonia Conoscere Linda De Leoni Bianchi Conoscere Il canarino Che è in Giappone A Tokyo Diciamo Ci sono tutte queste Queste possibilità E una di queste Storie che Vi avevo anticipato Prima Il galletto Il galletto Che ci sono molto Affezionato Dovete sapere Che Che si chiama Musico Musico Ma Scusa I nomi sono importanti Chiamarli per nome Gli animali È molto importante Perché è un nome Sei tu che gli chiedi Come ti chiami No no Questo è un nome Che gli ha dato La No Me l'hanno detto Me l'hanno detto Me l'hanno detto Però Qua saperemo Un capitolo Apriamo Però andiamo a Dubai Andiamo a Dubai Nel senso che Per farvi capire Un esempio pratico Le parole Come si aprono mille capitoli L'importanza delle parole Beh Giusto un accenno Le parole generano la realtà Le parole derivano dal pensiero Il pensiero Addirittura Ti spiegano animali Come generare un pensiero animico E la differenza Da un pensiero animico È un pensiero generato In una relazione Da una situazione esterna Cioè arrivano a dei livelli Di profondità Grandissimi Però Per stare sulla domanda Mi ricordo Questa Persona Che poi si è arrivata Amici Che vive a Dubai Che aveva questi due gatti Che litigavano costantemente E uno Che era Udini Bullizzava L'altro gatto Tra l'altro Udini Le hanno dovuto mettere Addirittura Il lucchetto Al frigorifero Perché lui Evadeva Apriva tutto E ogni parola Ha un'energia Quindi Se ad esempio Questo è un consiglio Che posso dare A chi Gestisce Magari anche i canili Se avete dei molossoidi Evitate di chiamarli Ulisse Dargli dei nomi importanti Perché vai a caricare Ancora di più La loro forza No? Allora questa signora Aveva questo problema Di questo gatto E ha detto Andrea Che consiglio mi dai? E gli ha detto Cambia il nome Ma vive da noi Da sempre Come posso cambiare il nome? Cambia il nome Dagli un nome Che più rappresenta Quello che tu vuoi Raggiungere Nel rapporto quotidiano Lei è tornata a Dubai L'ha chiamato Zen E Quello che mi ha detto Era che da quando Lei proprio Lo guardava Gli diceva Zen Quando iniziava A bullizzare L'altra gatta Lui si fermava La guarda La guardava E o smetteva O andava a fargli Le coccole E ha smesso Di bullizzare L'altro gatto Più l'importante Anche La parola Il tema Come si chiamava L'altro gatto? Perché se era Attila Era già Massimiliano Lo sai la storia Di Troisi No? Il film di Troisi Che Il nome Bisogna dare ai bambini I nomi corti Perché se dai Dei nomi lunghi Vengono maleducati Invece se lo chiami Ugo Ugo Vieni qua Lui non ha il tempo Di scappare Se lo chiami Massimiliano L'hai perso Un po' Zen Forse la stessa cosa Però è importante Il tema del nome No? Della parola Il tema parola Ecco Il galletto Il galletto Il galletto In Africa Tra i miei vari viaggi Conosco questa persona Che mi ha detto Io ho questa idea In testa Di creare un santuario Per animali Sa di fatto che L'ha creato In Israele È un santuario bellissimo Si chiama Freedom Farm Century Lo trovate su Youtube E tutto E decido di andarla a visitare Quindi prendo un aereo E vado A Tel Aviv Cosa succede? Che da Bologna Faccio scalo A Roma E ovviamente C'era il classico Francescano Che andava In Terra Santa Era davanti a me Col trolli Allora si gira Era un ragazzo giovane Mi dice Salve Dico salve Anche lei in Terra Santa Ha detto Si si vado A Tel Aviv Va nei luoghi Di preghiera E io gli dico Io vado a conoscere Una gallina Allora lui Mi ha guardato Ha smesso Di parlare Si è girato Non abbiamo più parlato In realtà Io andavo In questo centro A vedere questo centro Ma non per Muscico Non sapevo neanche Che avessero un galletto Però arrivo al centro E appena arrivato Mi hanno chiesto Di fare delle comunicazioni Con una mucca Con una pecora E con un galletto La cosa bellissima È che Hai una vita interessante Tu La cosa interessante È stata che È bella che Ero nel loro ufficio Che era a metà Un open space Come questo Quindi c'era una parte Con i computer L'altra parte È proprio Divisa da dei pallet Paglia E c'erano tutti gli animali Che avevano disabilità Quindi la mucca Adesso c'è il cariolino Il galletto Era questa zampina Che non riusciva a camminare Come vi dicevo E mi ha fatto Sei domande Per ognuno di essi Il galletto La domanda Clue era Se È d'accordo Per operarlo Perché ha Questa Malformazione Nella zampa Quindi entro in comunicazione Col galletto Contra l'altro La pecora Che mi giava intorno Ci appoggiava su di me Quindi condizioni Anche non proprio Ideali Per la concentrazione E praticamente La prima cosa Che mi dice Non ti sei linguazzato Con la pecora No la pecora no Solo con i cani Solo con i cani Con i lupi E i lupi E Il galletto Mi dice La prima cosa Che mi dice Mi ha detto Sono un generale Al che io Lo riporto Ma ovviamente Ho detto Questo non lo riferisco Cioè un galletto Di neanche un chilo Che mi dice Sono un generale L'altro messaggio Che mi dà È stato La descrizione Di dove sono trovato Che poi dopo Mi hanno confermato Poi mi dice Il mio ruolo qua Nel centro È di accogliere Le persone Quindi io Immaginatevi Il mio taccuino Io prendevo Sono un generale Ho visto la iuola Con la sepe Mi ha detto Che il suo ruolo Accogliere le persone E poi mi dice Mi parla della libertà Mi ha detto Per noi animali Qui nel centro Non ci sarà la libertà Per come voi la intendete Ma la libertà più grande È stata Accettarci La libertà Che ci avete dato È accettare La nostra condizione E poi mi dice L'obiettivo del centro Deve essere Far vedere La bellezza Nelle persone E poi chiude Dicendo Io sono un generale Quindi io Finita la comunicazione Mi sposto All'altra parte Dei pallet C'erano tutte Una decina di persone Col cellulare A riprendere Quello che dicevo E inizia a riferire tutto Quindi mi confermano Dove l'hanno trovato Mi spiegano Il perché Lui accoglie Dice che accoglie Le persone Perché essendo piccolino Lo vedete anche su youtube Dopo me l'ha fatto vedere Le volontarie Si mettono la felpa L'aprono Lo mettono Modello marsupio Come un canguro Lui mette la testina fuori E accoglie fisicamente Le scolaresche E quando ho detto Il discorso Della bellezza Nelle persone Hanno sgranato gli occhi Perché per me Non voleva dire niente Ma per loro Perché il messaggio Non era per me Ma era per loro Sempre così Siamo sempre dei tramiti Quando si comunica In realtà non si comunica Si ascolta In termini già Si ascolta E E mi dicono Che una settimana prima A livello associativo I volontari Ha avuto una discussione Nel senso che I volontari Sostenevano Che l'obiettivo Di salvare Questi animali Che arrivano da maltrattamenti O salvati dai macelli O che hanno malformazioni Che quindi dovevano morire È Di far vedere La bellezza Degli animali Mentre le fondatrici Dicevano No Il nostro obiettivo È far vedere la bellezza Nelle persone In modo tale Che possono cambiare Il loro atteggiamento Nei confronti agli animali Ed esattamente È quello che mi ha detto Musico Però la nota Di colore Che voglio riportare È che Avendo detto due volte Sono un generale Chiusa tutta la comunicazione Ho detto Beh adesso Mi sputtano Tanto ormai È andato tutto bene E gli dico anche Che questo galletto Mi dice che è un generale E gli dico Guarda Tra le altre cose Mi dice Sono un generale È passato qualche secondo E mi dicono Lo sai Andrea Come in realtà Chiamiamo Musico Napoleone Quindi A posteriori Pensare Napoleone era piccolino Musico è piccolino Napoleone è sempre Affigurato Con la mano E lui è sempre lì Quindi Due più due Ve la dico Se volete Incontrare La reincarnazione Di Napoleone Andate in Israele Al Freedom Family Chiedete di Musico Fate pure il mio nome Ve lo fanno Fatevi un selfie Con Musico E lì si sta Napoleone Sostanza Dovete sapere Che Andrea Nella Sua altra Metà Di vita Non so Tre quarti Fai l'ingegnere Sì Possiamo dirlo Confermo Come fai a mettere Insieme L'ingegnere Con questo Beh All'inizio Cioè Può sembrare Contradivale Sì Sono due mondi diversi Sono due mondi Conventamenti diversi Però alla fine Mi sono dato Questa risposta Come chiedervi In questo momento State pensando Di respirare No Cioè Noi respiriamo Neanche pensando Di respirare La comunicazione Con gli animali È stato Riscoprire Che Che stavo respirando Già da un po' E questo respiro È naturale E quindi Questa Quest'altra Diciamo Mia parte Diciamo La convivenza In realtà È stata Adesso È naturale In senso Io sono questo Però Lavoro anche Come ingegnere Perché è un percorso Di vita Che dovevo fare E che sono grato Che sto Che sto facendo E quindi Alla fine Riesco a Combinare Due cose Dall'altro Canto Fare l'ingegnere Ti permette Anche Di Vivere Sono dando Il termine Un po' La terza dimensione Comunque Vivere La quotidianità Avendo anche I piedi per terra Nel senso Che vai in ufficio Perché Il rischio Che ci può essere A essere Molto di più Dall'altra parte È di perdere Un po' Il contatto Con le cose Le cose Insomma Terrense Comunque Stiamo parlando di quello Anche se Però Abbiamo Una fortuna Incredibile E io l'ho scoperta Cosa ve lo devo dire A settembre di quest'anno Ti sposi Con No Non mi sposo Però In un'esperienza Particolare Che ho fatto Molto semplice Nel senso che Un rapporto Con una ragazza Finita questa Questa serata Diciamo Io ero distrito Sul letto E ho iniziato A guardarmi i piedi Ma siamo in faccia protetta? No Perché 21 e 39 No È già finito Metti il bollino Il bollino rosso È già finito Il bollino rosso Come si mette Tony Il bollino rosso Con la mente Radiofonico Voi non potete vedere Ma io ho un bollino rosso Sulla faccia Adesso in questo momento Un brufolo Un brufolo gigante E in quel momento Ho iniziato a ridere A ridere A ridere Guardandomi i piedi Dicendo Ho un corpo Ho un corpo Ma è una cosa Che è banale Perché tutti noi abbiamo un corpo Però in quel momento È stato l'unico momento In tutta la mia vita Ho realizzato Che effettivamente Io avevo un corpo Ed era un qualcosa Diverso da me E ho avuto Questa consapevolezza Sa di fatto Che dopo È cambiato tutto Perché allora Dopo ti accorgi Che puoi andare A fare una passeggiata E hai la possibilità Di toccare una foglia Di sentire il calore Di una mano Di sentire Il freddo della neve Il tessuto Apprezzare Il sapore di un cibo E questo ti porta A vivere L'unico L'unica Diciamo Dimensione Che abbiamo Che è il presente Il momento presente E questa consapevolezza Ti riporta All'istante Perché Ti riporta A ringraziare Che stai respirando Che hai bevuto Un sorso d'acqua Veramente ti riporta A una dimensione Che è quella Che vivono gli animali Della connessione Che è il momento presente E quindi Veramente Riscoprire anche Certe cose Che possono essere banali In realtà Non sono banali Io per Più di trent'anni Non ho mai pensato Che avevo un corpo Ma non razionalmente Ma proprio arrivare A percepire Che è un qualcosa Di diverso Un attributo Giusto? Sì Che tu usi Per andare in giro E anche per tenere in mano Il microfono Che stai usando E quindi abbiamo Questa grande possibilità Che è il nostro corpo Per Alla fine Possiamo applicare Diverse pratiche Tecniche Semplicemente Anche Andando al lavoro Cioè domani Quando andate al lavoro Semplicemente Osservate Che avete la mano Sul volante Che ci sono Dieci macchine Che avete visto Il semaforo Iniziate a cogliere A svegliare I propri sensi Perché noi dormiamo Quando guidiamo Quante volte Vi capite arrivare a casa Non mi sono neanche accorti Che siete Dice ma Cosa ho pensato Sono già a casa Noi viviamo Anestetizzati O con questo vero davanti Costantemente Quell'esperienza Ha fatto capire Che in realtà Tutte queste pratiche Non c'è bisogno Andare da questi guru In India Cioè potete farla Anche Facendo la spesa O cucinando il minestrone Non stai più Con quella ragazza No no Devo dire Che mi ha guardato Molto male In questo momento Immaginiamo Mettiamo Un altro brano Togliamo la fascia protetta Adesso puoi mettere un brano Quindi toggo il buolo Dalla testa Sì sì Anche tu Tony Dovete sapere I nostri amici radioascoltatori Lo sanno già Però noi Nella nostra Scelta dei brani Playlist Scegliamo almeno Un brano sigaretta Che va Oltre i 4 minuti Perché Tony Deve andare a fumare Bassano 3 Prossimo Dai Andrea Un'altra curiosità Quando tu comunichi Non ti viene mai il dubbio Ma magari me lo sto inventando Cioè Hai qualche Metodo di conferma? Il dubbio ce l'ho Sempre 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 Nel senso che Quando ti metti A una pagina bianca E magari fai una domanda Teri una risposta Che non c'entra niente Completamente niente Con la domanda Che hai fatto Il dubbio Il dubbio Personalmente Mi viene sempre Perché comunque Abbiamo sempre La parte razionale Siamo cresciuti Anche in una In una Diciamo La nostra società Ci porta A non credere Nel nostro intuito Nel nostro abilità Quelle che non si possono toccare Quindi Siamo cresciuti In questo ambiente Quindi per forza Di cose Questa parte qui Un po' Ci accompagna Però arrivi a un punto In cui veramente Non hai Non hai via di scampo Cioè O hai fede O non ce l'hai Semplicemente Per il fatto Che arrivi A capire Che tu Non stai comunicando In quel momento Tu sei solamente Un veicolo E io quello che dico È semplicemente Il mio compito È tenere il canale Più pulito possibile E di essere aperto Per ricevere Il messaggio Che le persone Gli animali Hanno Hanno bisogno Di sentire O di trasmettere E quindi Bisogna avere Una grande fede Nel Che questo avviene E quindi Semplicemente Di getto Scrivi tutto Quello Che arriva Però non nascondo Che a volte Sì Arrivano dei messaggi Talmente Particolari Soprattutto all'inizio Che uno metteva Un po' Anche in dubbio Però ti arrivano Sempre le prove Le confermi Una volta In una comunicazione Con un gatto Mi fanno vedere Il gatto Nel cartone Della pizza Allora la logica Cosa ti porta a dire Magari Daranno La crosta Della pizza O gli piace La pizza Però ho capito Che se arriva Un messaggio Se applichi La logica Quindi ci metti Del tuo Vai fuori strada Quindi quello è Quello deve essere Quindi mi ricordo Che la famiglia Ha detto Tra le altre cose L'ho messo un po' Sul reader Perché ha detto Facciamoci una risata Ha detto anche Cartone della pizza E la risposta È stata Sì Ovvio Ha detto Cosa vuol dire Si chiama Camilla Questa gatta Ha detto La cuccia Sa di fatto Questo gatto Dorme dentro Al cartone della pizza Pulito E mi hanno mandato La foto Perché non ci potevo Credere E dorme Nel cartone Della pizza Come Altri messaggi Arrivano a livello Di profondità Che sono impressionanti Sempre un gatto Siamo qua A Modena Mi chiamano Perché faceva La pipì in casa E Tra le varie informazioni Che mi dà Mi mostra Un tavolo E la signora Cioè Il gesto Di apparecchiare E poi mi fa vedere Una vetrinetta Che c'era dietro Con le classiche Vetrine Con le ante Basta Queste due informazioni E però La sensazione Che ho avuto Che non era un messaggio Che mi ha dato Direttamente Ma io ho avuto Con la sensazione Che quel gesto lì Era fatto Però nessuno Sarebbe arrivato Come se tu Apparecchiassi La tavola E poi Il tuo ospito Non arriva Quindi io riferisco Si chiama Miriam Questa signora L'informazione Del gatto Dico guarda Mi ha fatto vedere L'immagine Del tavolo Che mi ha apparecchiato La vetrinetta Ed io ho detto Questa è la mia sensazione Perché non mi ha detto il gatto Era come se Questo gesto fosse fatto Ma qualcuno Poi non sarebbe arrivato Quello che è venuto fuori Mi ha lasciato a bocca aperta Ma ve lo dico Perché vi fa capire Il proprio livello Di consapevolezza Che ha nei nostri animali Il gatto era della mamma È della mamma Quindi non suo E mi dice Mia mamma è da Un po' di anni Che ha l'Alzheimer Ed è da tre anni Che lei Tutti i giorni Apparecchia la tavola Perché dice Che arriva Il suo fidanzato Che era il fidanzato Che aveva in gioventù Però essendo nobile La famiglia Poi hanno allontanato Il ragazzo E lei si è fatta una vita Con il suo papà Ha avuto due figlie Di cui una È questa signora Che mi ha chiamato E mi dice La vetrinetta Te l'ha fatta vedere Perché nel vetro Ha messo la foto Di mia sorella Dicendo che è la figlia Che ha avuto Da questo Da questo suo fidanzato Che la viene a trovare Tutti i giorni Ha detto Noi Andrea sappiamo Che questo ragazzo Questo signore Non viene più Non è mai venuto E che lei è mia sorella E quindi l'ha avuto Da mio papà Però il gatto Non solo ha riportato Un'azione meccanica Che vedeva La vetrinetta La vede perché è in casa La parchiare Però ha trasmesso anche Il pensiero psicologico Che aveva la La signora Che si prende a cura Perché poi usare La parola proprietario La proprietà Noi non abbiamo Non sono nostre proprietà Quindi so che in italiano È difficile Una parola alternativa A proprietario Il compagno umano Ma insomma Comunque per intenderci E quindi Non arrivano Dei livelli Di consapevolezza Che a volte Ci sbalordiscono Teo Un gatto di Catania Mi ha parlato Ho parlato Di Valeria Mi dice Deve tornare Dove ha fatto Le scuole Da piccola Per rompere Un ancoraggio Che si porta Allora Perché lei Riponeva l'attenzione Sempre E le aspettative Sugli altri E quindi Lei fin da piccola Dipendeva dagli altri Deve tornare lì E rompere Questa catena Questa catena Che si porta Beh sta di fatto Che Tra i vari messaggi Che gli aveva dato Qualche anno prima Li sono tutti Insomma Arrivati In successione Mi dice Io Andrea Mi sono appena divorziata E ho cambiato Casa E non ci crederai Ma vivo A dieci metri Della mia scuola Elementare Esattamente Dove il gatto Diceva che doveva andare Il gatto di Catania Ogni tanto Ci metteva Minchia Nella comunicazione No era molto polite Molto educato Andrea un'altra curiosità Riguarda Le differenze di genere Cioè Tu trovi delle differenze di genere Fra gli animali Di intelligenza Anche diverse Fra la gallina O il leone O il cane Ad esempio Si dice Stupido come una gallina Lo ritrovi questo Nelle comunicazioni Oppure no Oppure è tutto Livellato Uguale No 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 Non è livellato Ma la gallina Io sono innamorato Delle galline Quindi per me Appena sarò ricco Mi prendo due galline Questa è la prima Gallina e asino La prima cosa che farò E No Non c'è Diciamo Non è tutto livellato Ma non va in base Alla specie Cioè Non è che A questi livelli Perché noi Basiamo la nostra Interpretazione Di una Intelligenza In base A un confronto Magari perché Hanno un'abilità Motoria O hanno la capacità Di terminati Risolvere i rebus Come fanno i topi Sono intelligentissimi Però se pensate Anche i delfini Hanno dei radar Che neanche i militari Sono riusciti a replicare Quindi Molto spesso Commettiamo l'errore Di Basare L'intelligenza Su un confronto Su delle abilità Che abbiamo noi Però si prendete Un serpente Che si arrampica Senza male Stappi su un albero Vaci tu Senza male Stappi su un albero Comunicando Con diversi animali Quindi andando Dal Cane e gatto In Europa Cane e gatto Cavallo E molti Conigli Stanno uscendo Molti conigli Ma poi fino ad arrivare Alle balene Pinguini Squali Squali balena Insomma Più ne metta Dipende La mia risposta Dipende da chi è dentro A quell'animale Cioè E da che evoluziona Quell'anima Cioè Allora Sempre sulla terza dimensione O sull'olografia Cioè voi vedete Un'immagine di un animale Che è una gallina Piuttosto che un cane Però non è tanto importante L'animale Per dire Comunico con lui Perché è più intelligente È un leone È più intelligente Una gallina Dipende Dentro a quel corpo Che anima c'è E che percorso Ha già fatto Io Mi ricordo sempre Questo Levriero Che sulle domande Classiche Perché Avevo già fatto Una comunicazione Con un levriero Con un amico Di questi qui Arriva la terza famiglia Dice ok Facciamo anche una comunicazione Con il nostro leviero Questo leviero Mi ha iniziato a parlare Dell'Egitto Di come erano utilizzati I levieri Nell'antichità Sull'energia Che muovono Quando corrono Di come le regine Si relazionavano Con loro Facendo vedere Proprio i gelogritici Tant'è vero Che io Da ignorante Perché non è che Ho mai studiato Cosi particolari Finita la comunicazione Ho messo Levriero Egitto Su Google E ho visto I basso e lì Dopo ti tiri fuori Che ci sono Le divinità Con le affacce Del levriero Il levriero E la cosa E quindi Quella era un'anima Evolutissima Ovviamente Parlando con la famiglia Sono rimasti Un po' sbigottiti Mi hanno detto Fai un'altra comunicazione Che noi dobbiamo sapere Qual è il suo gioco preferito Mi hanno detto Cavolo Avete in casa E' come se tu avessi Einstein in casa Hai la possibilità Di inconoscerlo Gli chiedi Che numero hai di scarpe Cioè La cosa che mi ha colpito E che dopo Nel tempo Hanno capito L'importanza Di questo cane Che rappresenta per loro Sono venuti A un corso Di comunicazione Portando il loro cane Quindi c'erano Gli studenti Eravamo qua A Reggio Emilia Finita la comunicazione Due persone Arrivano dal medico Guarda Andrea Non l'abbiamo detto Perché non c'entra niente Ma io ho visto Un triangolo E l'altra fa Anch'io Vedevo sempre Questi triangoli Ma cosa sono questi triangoli Sono le piramidi quelle A diverse Ad altre persone Quindi Veramente dipende Da Cioè Questo vi permette Anche di vedere Che nel Lì vedete La differenza Anche tra i cani C'è un decane Che hanno Diciamo Sono più svegli Altri meno svegli Ma non dipende Da una Dipende proprio dal percorso Che stanno facendo Dipende anche Quell'anima lì Chi era prima Magari era un'anima Di un gatto Che si trova in un cane O viceversa Ed è impacciato Ma semplicemente Perché devi prendere confidenza Tanti casi Fateci caso Che avete Questo cucciolo Che dice Ma questo gatto qui C'è qualcosa che non va Oppure un gatto Che lo chiami Siamo un cane E quindi In casa Potreste avere Anche voi Come Muscico Napoleone Chissà che avete in casa Io ho avuto esperienza Con la mia Cagnolona Che sto comprendendo adesso Dell'importanza Di chi era Nonostante ci comunicassi Ma nell'ultimo Momento Prima di andare Insomma Mi ha fatto capire Terminate cose E ho capito che Non era un'anima Comune Ecco Quindi insomma Coccolateveli E studiateveli Bene C'è qualche domanda? Sì Vedo Le braccia Che si Tu Faccio il balletto Guarda Ti passo il microfono Prego Grazie Sono Lorenzo E Mi piacerebbe chiederti Se Se di più persone E Se noi imparassimo Appunto Questo ascolto Come l'ha definito Più che comunicazione E Avrebbe più potere Vogliamo usare Il termine Curativo Evolutivo Su di noi O comunque anche Gli animali Apprezzano Il fatto che ci sia Un ascolto E quindi comporta Un'evoluzione Anche Dalla loro parte Sì Questa è una Bellissima domanda Dalla esperienza Che ho Gli animali Soprattutto quelli Che abbiamo anche In casa Gli animali Nostri domestici In realtà Sono loro Che si prendono Cura di noi Molte volte Quando gli parliamo Non parlano di loro Anche se hanno Magari problemi Anche fisici Importanti Ma parlano Sempre di noi Ci danno consigli Molto specifici Nel Giusto per parlare Del libro Io ci ho tenuto Molto nel Come si chiama Questo sottotitolo Non so come si chiama Sottotitolo Ascolti i loro messaggi Ascolti i loro messaggi E comprendi te stesso Perché Dalla mia esperienza Attraverso gli animali La comprensione Poi della natura Ti permette Di Semplicemente Ponendoti Nella prospettiva Che si può comunicare Entri in un ascolto Di te stesso Sentri in una dimensione Interiore Molto profonda E questa apertura Che loro ti permettono Di vivere Ti permette Di riscoprire Veramente Chi sei E quindi C'è proprio Un salto Di consapevolezza Che le persone Fanno Importantissimo Che poi magari Non si deve Per forza Sviluppare Negli animali Ma però Ti inizi Veramente Ad aprire Il cuore Perché Di quello Che si parla E quindi Può essere Nella relazione Con Senza tetto Con gli anziani O con i bambini O semplicemente Semplicemente Che non è semplicemente Amandoci di più Perché molte volte Sentiamo Questo dovere Magari di aiutare Anche gli animali In difficoltà Quante persone Danno tutto E però ci dimentichiamo Di amare noi stessi Quasi fosse egoico Amare Amare la nostra parte Però in realtà Dobbiamo Riscoprire Questa parte Veramente divina Che noi abbiamo Ed è solo amando Noi stessi E riscoprendo L'amore Che noi abbiamo Che possiamo Poi donare Più amore Anche al prossimo Perché è da qua Che si genera L'amore Quindi se Dal nostro cuore Quindi se noi Torniamo in questo Spazio Attraverso gli animali Per chi ha Questa empatia Con gli animali È una chiave D'accesso Ritorniamo in questo Spazio qui Per poi Donarlo Agli animali Alle persone Ti cambia Proprio la Cioè Si cambia Come persone Come abitudini Inizi a capire Che Il mondo È qualcosa Di diverso Io adesso Il mio pensiero È Io sogno Quando dormo O sogno Quando sono sveglio Perché capisci Che c'è qualcosa Che va oltre Allora dopo Succede che L'acqua ti parla Le piante Ti parla L'altro giorno Sono stato a vedere Il film A Maranello Questa pianta Mi ha detto Devi tornare a casa Torna a casa Cioè Io ho iniziato A piangere Da Maranello Fino A formigine Ininterrottamente Qualcosa Si è rismosso Dentro Perché Molto spesso Non ci ascoltiamo E In questo Approccio Noi Dobbiamo Ascoltare E poi Dobbiamo avere La fede Di seguire Quello che sentiamo Gli animali Molto spesso In comunicazione Ci ridanno Conferma E ci dicono Fai quella cosa Che già sentivamo Ma l'abbiamo Seguito C'è un capitolo Nel libro Che si chiama Una tigra Di nome Richard E io Vedendo La vita Di P E ho visto La scena finale Questa tigra Che torna Nella giungla E vedi Questa codona Con il sederone Della tigra Che sparisce Ed era L'immagine Che io vedevo Nelle meditazioni Dell'animale guida Io per tre anni Qual è il tuo animale guida Vedevo sempre la coda E il sedere Che andrà via Quando ho visto Quel film lì Io ho pianto Per un'ora in macchina Perché era La scena Che vedevo sempre E io in quel momento Cosa ho detto Ho detto Io devo tornare In Africa Devo tornare in Africa Ho preso un aereo Per un corso Di due giorni E ho detto Devo tornare lì Sono tornato lì Era 2013 Ed è iniziata In Molto Alchitalia Qualche anno dopo In casa Sentivo I leoni Mi hanno richiamato In Africa Era Natale Avevo tutti i miei parenti I miei nipotini Che scendevano dalla Svezia Ho detto Cosa vado a fare in Africa Che ho la famiglia qua Vado in un posto Che ho visitato Dei leoni bianchi La mia seconda famiglia Quindi ho visitato mille volte Però Mi mancava Come un tassello In quel momento Vado giù E conosco questo sciamano Ma non Che sono stato da lui Non saprei neanche che ci fosse E lui mi dice Io sono il tuo prossimo insegnante Anticipato tutto da un baobab Che mi dice Tutti i messaggi Che portavano a lui Quindi Entri proprio In una dimensione Bella E capisci Che la vita È semplice Ed è lineare Noi nasciamo E moriamo È una linea retta Da A a B Però Tutto il dispendio Di energie Che noi abbiamo Nella vita È perché Noi facciamo Questo zizzag Perché Ah cavolo Devo fare quella cosa Lì Devo fare quella cosa Là Sono tutte distrazioni E lì E lì All'importanza Del pensiero Quante volte Il pensiero Quante volte il pensiero È un pensiero Generato Non c'è il giusto È un'esperienza È un'esperienza di vita Che noi abbiamo scelto Di vivere In questa esistenza E se torniamo in questa linea retta Tutto fluisce E quindi È tutto Arriva tutto Arriva tutto È più difficile La comunicazione Intuitiva Con gli esseri umani Questa è una bella domanda Con gli esseri umani È già difficile Parlarci a parole No? Perché noi ci parliamo Ma non ci comunichiamo Dici no? Secondo me Microfo Microfo No secondo me Non è esattamente così Nel senso che Se uno vuole comunicare Comunica Al di là delle parole Anche tra le persone Sì Però molto spesso Quello che volevo dire È che Basandoci sulla parola Non andiamo Sempre in profondità E quindi Il classico esempio Vedi una persona Come stai? Bene Stanno tutti bene 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 A volte però sentiamo Diciamo Boh C'è qualcosa che non mi risuona Però Poche volte Poi andiamo a fondo Perché poi dobbiamo Poi ascoltare quella persona Se ci dice che sta male Magari dobbiamo andare a fare la spesa Hai detto che stai bene Stai bene Ci vediamo Con gli animali invece Ci leggono dentro E non ci sono questi fraintendimenti Io Personalmente Grazie all'esperienza Che mi ha fatto vivere Sempre la Lulù prima di morire Che ci ha fatto tirare su tutti In famiglia Perché situazioni Dove hai Dittato un Un ospedale In casa Tutti i tappetini assorbenti E il papà Che sclera Così Alla fine ci siamo parlati Per la prima volta Ho deciso di parlare Con mio papà E ho scoperto Che non sapeva Tante cose di me Che Cavolo Ci vediamo tutti i giorni Ne parlo A tavola Però c'era questa comunicazione Che però non era C'era questa barriera Tra me e lui Quindi a parole Cioè le parole giravano I progetti che sto facendo Ma io scoperto Che tante cose che stavo facendo Lui non le sapeva E viveva in casa con me E Sai che mi sono perso Ah no Sulle persone Sulle persone Quindi Dipende molto Anche dall'apertura Gli animali Hanno questa grande apertura Ai nostri confronti Perché Quello è un modo Di comunicare Che loro hanno Avere una persona Che sia disposta Ad entrare Nel livello di comunicazione Così sottile Non è scontato Però mi è capitato E questo è un aneddoto Che mi ricordo bellissimo Con la mia ex ragazza Che era molto incuriosita A questo mondo Allora mi ha detto Andrea Fissiamoci una data Perché lei andava In Egitto Quindi il tal giorno Alla tal ora Ci mettiamo in comunicazione Io e te Quindi ci siamo messi In comunicazione Lei ovviamente Non ha sentito Nulla Ma non era importante Però c'era questa apertura Io mi ricordo che Mentre scrivevo L'informazione Che ricevevo Sentivo questo gran vento Quindi aperto gli occhi Adesso chiudo la finestra Mi era chiusa Apro la finestra C'era vento fuori Non c'era vento Sentivo Ma la sensazione del vento È come se Se fossi in casa E E poi mi ha detto Una frase molto Molto bella Niente Riferendo tutto Si chiama Valeria Che saluto Si sta ascoltando Mi ha detto Che quel giorno lì Lei era nel deserto Per la comunicazione Lei era fuori dalla tenda E c'era un gran vento E la frase Che avevo scritto Era il pensiero Che lei aveva avuto Il primo istante Il primo minuto Che mi aveva visto Era una festa Era una festa E non mi aveva mai detto Lei mi ha detto Il primo pensiero Che aveva avuto su di me E quindi È possibile Anche Tra persone Quello che vi dicevo prima Esperienze quotidiane Le abbiamo sempre Quando siamo Sua frequenza dell'amore Accadono queste coincidenze State aperte Con gli occhi A vedere Quando accadono Difficilmente accade Con il vostro dottore di lavoro Che E si presenta E sempre Quando c'è Questa frequenza Dell'amore Col vostro partner Pensate Se vuoi di pizza Ti vai a mangiare la pizza Sì Ho pensato Un'amica Vi chiama Tutte queste coincidenze Avvengono Quindi è possibile Anche tra persone Perché noi Siamo anche noi animali Facciamo parte del tutto Anche noi E quindi Anche noi possiamo Comunicare a livello Più Più sottile E lo facciamo già Chi ha avuto dei bambini Cioè per forze cose I bambini non parlano All'inizio Però la mamma capisce Riesce a intuire Che ha quel bisogno O quell'altro E se avete dei bambini Non stoppateli Non stoppateli Perché hanno dei potenziali Incredibili Notizia recentissima Mi hanno chiamato Per fare un corso Con 30 bambini A Treviso Il 5 maggio E non vedo l'ora Di mettere in mezzo A questi pupazzini Perché in realtà Lì semplicemente Più che per i bambini È far capire I genitori Perché loro Sono più avanti In me anni luce Quindi io andrò Là da imparare da loro E magari far vedere I genitori Che queste cose Sono possibili Perché molte volte I bambini Ci dicono Al gatto Mi sta dicendo Quella cosa lì Oppure fateci caso Un bambino Che prende la spesa La spesa la mette sul tavolo Dal momento in cui voi le dite No Perché la spesa è pesante Ti viene male la schiena Entriamo già nella dualità E quindi iniziamo Il giusto o sbagliato Il nero e il bianco Ma fin in quel momento Lì il bambino Prendeva questo peso gigante Se lo poteva sulla tavola E come faceva Hanno dei potenziali incredibili E i bambini siamo noi Quindi La comunicazione con gli animali Un po' ritornare Ritornare bambini O ritornare a comunicare Col bambino interiore Che voi avete E lui vi dice tutto Se avete una domanda Andate a uno psicologo Entrate Se avete la possibilità Dentro di voi E chiedetevi Cosa ho bisogno io Questa cosa qui È giusta per me E quella voce lì dentro Ce l'avete Vi parla Volevo sapere Se sei vegetariano O vegano O comunque tutte queste anime Vuoi anche mentire No Non si può Beh questa è una domanda Tra bocchetto No non è tra bocchetto È una domanda Importante Però veramente qua Grandissima Uno è che Come faccio a spiegarvelo Che le parole Hanno un peso Molto forte No? La mia risposta Dipende Cioè nel senso Ti potrei dire Che mangio carne Ok? Pensate a quello Che si genera dentro di voi La parola Mangio carne Dice ma parla con animali Mangia carne No? E si innescono Tutti dei pensieri Che vi portano Ah ma quello lo sta mentendo Quindi in realtà Innanzitutto Non deve essere pronto A capire la risposta Perché in realtà È molto complessa Però per farvela breve Io ho deciso Di non mangiare animali Per coerenza Col percorso che ho fatto Conosco gente Che ha questa connessione E mangia carne Però Se dovessi tornare In alcuni progetti Che ho visitato Tipo in Amazzonia Tornerei a mangiare il pesce Perché non è una questione Di mangiare o non mangiare È una questione Di rispetto reciproco Io mi sono trovato A vivere in popolazione indigene Dove se non c'è l'indigeno Che caccia E prende i pesci Esatto E protegge la foresta Non abbiamo più neanche la foresta E quindi dipende Dalle situazioni Ovviamente qui In occidente Non mangio Carne e pesce Ho ancora questo attaccamento Al parmigiano reggiano Culturale Che devo Insomma Che sto affrontando Però Vi voglio dire anche un'altra cosa Quest'estate Mi sono andato in Guatemala A fare un'esperienza E mi hanno portato Questi contadini Una zuppa Di mais Li mangiano mais Dalla mattina Alla sera Col pollo Uno cosa fa Grazie Sono vegetariano Però In quel momento Ho detto No La mangio Perché Anche Questo per dirti Per andare un po' oltre Il mio approccio è quello lì Però il fatto di dire Io sono vegetariano E non mangio carne Semplicemente Il dire Io non mangio carne È un ancoraggio È una Dal mio punto di vista È una Una catena che ho Quindi io volevo Affrontare questa cosa Per dire Io non mangio carne Ma posso Decidere anche di mangiarla Volevo rompere questo meccanismo Quindi ho mangiato la zuppa Con una Il sapore di pollo È una cosa che Sembrava una medicina Perché Però anche per rispetto Di questi contadini Che avevano solo quello Quindi non volevo anche dire Questo lo buttiamo via Anche per rispetto Di loro Ma l'ho mangiato Con quest'ottica Qui Io nella mia vita Non ho mai bevuto un caffè Perché ho sempre avuto Molto sonno Quindi ho detto Io non bevo caffè Così non divento dipendente Della caffeina In Guatemala Producono caffè Andrea vuole il caffè E per me Non ha mai bevuto In vita mia E ho detto Lo devo bere Semplicemente per rompere Questo concetto mentale L'ho bevuto Era anche buono Devo dire la verità E avevo sonno Come era prima Quindi io Ho vissuto Fino a oggi Col concetto Che la caffeina Mi aveva portato Cioè questo pensiero Mi ha accompagnato Per tutti questi anni Ho detto Rompiamo questa cosa qui Persone che mi stanno Mi stanno sulle scatole Che si riproponevano sempre Ho detto Bene Chi sono Questa Questa Messaggino Usciamo a cena Ci vediamo Una che ha un centro listico Che proprio non mi piace Vengo a fare il corso da te Proprio Quando avete Riconoscete Delle gabbie Che vi siete costruiti Proprio Andateci Proprio Con l'acceleratore Buttate giù Tutti questi muri È l'unico modo Per essere Prima è per essere Veramente liberi Che molto spesso Ci Anche involontariamente Ci creiamo Delle gabbie Delle catene Noi E quindi Sono vegetariano Con questo approccio Però anche le piante Potrebbero Per dire È il pino Che ti ha detto Devi tornare a casa Anche lui Tornare da tua famiglia È vero che non mangi il pino Il pino ancora no Ancora no Però insomma Ma si aprirebbe un altro capitolo Lo lasciamo Però comunicano anche le piante Anzi Sì Hanno una comunicazione Incredibile Adesso Adesso per scherzare Ma con la lattuga Non ci ho mai parlato Con gli alberi Con gli alberi Con gli alberi Sì Dei messaggi incredibili Dei messaggi incredibili Non so se la lattuga Ci parla Con te Visto Che di solito Ti trovi a Quasi a mangiare Eh Magari parla dopo Eh chissà Cioè durante il processo Di Di gestione Damiano Sì Altre Ti sei lanciatissimo Sei Abbiamo La diretta Abbiamo altri Tre minuti Tre minuti Magari Andrea Dai risposte un po' più Ti vorrei chiedere Se Con questi ascolti Con piante e animali Sei riuscito a affrontare Il tema della multidimensionalità E multitemporalità Cioè Il fatto del tempo Lineare O una loro percezione Del tempo E spazio Diversa Sono arrivate Questo tema È arrivato Nel In alcune comunicazioni È arrivato E Diciamo che c'è Non c'è una concezione Del tempo Come l'abbiamo noi Nel senso che Ho visto Che alcuni messaggi Che loro davano Poi sono avverati Nel giro di Qualche giorno Un mese Quindi in realtà Hanno la possibilità Di avere accesso A tutte le informazioni E molto spesso Anche comunicando Anche noi Possiamo avere accesso Io Sono raffigurata Come una grande libreria E molto spesso Comunichiamo con gli animali Ma altre volte Tramite l'animale Andiamo in questa libreria E prendiamo un'informazione Anche una semplice idea Non è mai una nostra idea Ma un'idea che sta girando E in quel momento L'abbiamo L'abbiamo presa E gli animali Portano questo Questo messaggio Parlano addirittura Oltre al tema Della reincarnazione Ma anche della vita Che stanno per affrontare Di chi saranno Tra poco Quando arrivano A dei livelli Di coscienza Un pochino più Non dico elevata Ma hanno uno scatto Arrivano a darti Anche questo tipo Di informazioni Allora capisci Che il tempo Non è come In realtà Il tempo È nostro Il tempo Per gli animali C'è il presente E nel presente C'è il tutto Quindi Il passato E il futuro È come se coincidessero In questo istante E da quell'istante Si genera poi Quello che noi percepiamo Come un passato E come il futuro Però gli animali La memoria Ce l'hanno Si Nel senso che Chi ha avuto Traumi Ad esempio Da piccolo Poi se li porta Purtroppo dietro Tutta la vita Pensa ai canigli Animali maltrattati Purtroppo Ce ne sta accadendo qualcosa Ma è un libro Niente Tutti Come spieghi questa cosa Cioè Hanno un passato No Il passato Ce l'hanno Se lo Se lo ricordano E ovviamente Qui ha un cane Che ha vissuto Dei passati Difficili È evidente Però Oltre a questo Che diciamo Che più È un parallelismo Con quello che viviamo noi Materiale Di un percorso di vita Che stanno vivendo Hanno anche la possibilità Di avere accesso A tutte quelle altre informazioni Che anche noi Abbiamo la possibilità Però Non hanno Questo aspetto Magari dell'ego Che noi abbiamo E quindi Essendo in purezza Ed essendo in presenza Hanno la possibilità Di capire Anche queste altre dinamiche Che sono Sono accessibili E soprattutto È immediato magari Cioè Appunto È una cosa È immediato Non devono stare a fare Dei teoremi O chissà che Giusto No No È immediato Ma arrivano Dei livelli Di profondità Che a volte Proprio caso Concreto Negli ultimi mesi Di vita Della Lulu Che è la mia Cagnolona La portavo in giro Perché non si tiene Più sulle zambe Posteriori Quindi questa vecchietta La porti in giro Così A un certo momento Inizia a parlarmi Dei pianeti E dico Beh Cosa sta dicendo Questa no E poi Il giorno dopo Di come i nostri organi Sono collegati ai pianeti E poi di come L'energia sta cambiando Di come noi dobbiamo Cambiare A chi non cambia E non si adegua Ci sarà questo cambio Di energia Molto importante Tutti i temi Che vi dico la verità Per me Sì Li prendevo Ma un pochino In leggerezza Perché Vedi questa vecchietta Che non sta neanche in piedi Inizia a parlare Dei pianeti Degli organi L'energia sta cambiando Ti ho detto Cavolo Io in caso Ho questa vecchiettina Che neanche si raggi in piedi Che mi dice le stesse cose La sorgente È sempre una Come ci arriviamo Dipende un po' Dal nostro percorso Ma C'è la possibilità Di arrivare fin lì E dopo lì Ci si aprono Capitoli Io ancora Non sono arrivato A Liberia Poi ci sto lavorando Sono molto curioso Andrea Prima di chiudere Volevi Dire un'ultima cosa Mi hai detto All'orecchio Prima Ah No Dare delle Delle anticipazioni Sono proprio Degli ultimi giorni Quindi Il libro Uscirà in francese E quindi A giugno A settembre Uscirà una favola Per bambini Scritta Sull'esperienza Che ho avuto in carcere Con i detenuti Quindi una favola Un po' Sui generis E il 3 di febbraio Ora è ufficiale Si inizia la stesura Di un documentario E quindi andremo In Africa Da leoni bianchi A incontrare Diverse persone Che hanno sviluppato Questa Questa Profonda unione Con la natura E quindi L'idea è poi Dopo di Partire E quindi insomma Io seguo Io seguo Quello che arriva E sono tutte cose Che sono arrivate Idee O sogni Che mi sono arrivati Nel tempo Quello del documentario È un po' ambizioso Però ho detto Buttiamoci Iniziamo E sono arrivate Proprio le persone Giuste E quindi si inizia E qui sono Il messaggio È quello È quello del libro È quello del fumetto È quello del documentario Che sarà Il messaggio è quello Si amplia Si arricchisce Però la sostanza È quella È una riscoperta Quindi Io sono all'inizio Di questo percorso Perché Io sono proprio All'inizio Inizi 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 Quello che Sto cercando Di fare È approfondire Tramite O i messaggi Che mi danno gli animali La natura Oppure incontrando persone Che hanno fatto Dei passi avanti Sono già su questo cammino Quindi l'idea è proprio Di condividere Diverse prospettive Senza dare una verità Ma lasciando Alle persone Un punto di domanda È possibile Come è possibile Si può fare Poi dopo Stare ognuno di noi E entrare nel cammino Perché ricordatevi Che nella vostra vita Non incontrerete mai Dei maestri Almeno io personalmente Non ritengo Che ci siano dei maestri Se non persone Che vi possono guidare Aiutare A ritrovare Il maestro Che è in voi Perché non c'è Nessun maestro Più importante Che voi stessi Le risposte Le avete tutte dentro Dobbiamo Molto spesso Avere una persona terza Che ci fa vedere La bellezza che abbiamo E poi dopo il percorso Però è responsabilità nostra A seguirlo E scoprire La nostra strada Andrea Grazie Grazie a voi Sono già finito Sono passate Tre ore un quarto Chiudiamo la diretta Poi se vogliamo rimanere Rimaniamo Noi di solito Quando facciamo Le dirette in libreria Finiamo così Prendiamo un libro a caso Tony leggerà una frase a caso Da questo libro E sarà il nostro messaggio In codice La rubrica si chiama Messaggio alla cazzo E la nostra rubrica E questo è il messaggio Per gli ascoltatori Vai Tony Mi raccomando Il libro E' importante il titolo Lo puoi dire? Dopo Dopo Grimm aveva ragione Lì dentro Non c'era granché da ricavare Il poliziotto Se ne stava a guardare Bora Con i gomiti in fuori E i pollici Nella cintura Dei pantaloni Un messaggio Criptico Però Forse per la polizia Per la radio Della polizia Ah si si Esatto La notte delle stelle cadenti Bene Di? Di Fratelli Green Ben Pastor Ben Pastor Sellerio editore No? Sì Esatto Abbiamo detto anche un altro libro Bene Comunque interessante